Vi auguro una buona giornata. Il messaggio di oggi è MassMedia. Usa i mezzi di informazione come la televisione, la radio, la stampa e il computer per raggiungere il maggior numero possibile di persone. Hai ricevuto questa carta perché i tuoi messaggi devono essere trasmessi ovunque nel mondo. È il momento di pubblicizzare il tuo lavoro esplorando nuovi canali multimediali ed informare le persone dei tuoi progetti tramite i MassMedia. Se hai già ricevuto dei consigli in tal senso, lascia che questa carta sia un ulteriore motivo per agire. Le tue preghiere per ottenere una maggior visibilità, un guadagno più elevato e la capacità di raggiungere un pubblico più ampio vengono esaudite. Comincia a fare il primo passo. Mettiti in contatto con chi può aiutarti e sii intraprendente nel creare e accettare le opportunità. Ogni situazione che intraprendi in questa direzione porterà la tua opera all'attenzione dell'opinione pubblica. Questo è il messaggio per augurarvi la buona giornata. Grazie. Grazie. Grazie.